Il campionato di Serie A2 di basket, domenica, arriva al Giro di Boa con la Giorgio Tessigroup che in una settimana è scesa dal primo al terzo posto in classifica dopo la sconfitta a Bologna contro la Fortitudo. Niente di grave per carità, però dispiace per un ipotetico titolo di campione d'inverno che avrebbe garantito il quarto di finale di Coppa Italia in casa e con una sfida sicuramente più agevole rispetto ad una terza posizione che vedrebbe Biancorossi lontano dal Palacarrara ed in casa probabilmente della forte Vanoli Cremona. Per mantenere comunque la testa della classifica, domenica c'è da battere la Rimini di Jess Johnson, formazione che arriva al Palacarrara con quattro vittorie nelle ultime cinque apparizioni, caduta solo in casa con Cividale e con il quinto migliore attacco del Girone Rosso. La formazione neopromossa, dopo un inizio traballante con 6 conflitti e una vittoria, si è ripresa ed ora staziona poco sotto la zona playoff al decimo posto. Grande attenzione dovrà essere posta sull'ex Jess Johnson, miglior realizzatore del Girone Rosso con 19,3 di media con il 44% da 3 punti e la formazione di Brienza che però rimane la miglior difesa di tutto il campionato. Un testo importante per capire la condizione della squadra sia fisica che mentale che nelle ultime uscite è apparsa anche in debito di ossigeno. Appuntamento quindi alle ore 18 al Palacarrara che vedrà anche il ritorno del Teddy Beer Toss, il lancio di pelusci in campo al primo canestro di una delle due squadre, con i pupazzetti che saranno poi donati al reparto di pediatria e neonatologia dell'ospedale San Jacopo di Pistoia diretto dal dottor Rino Agostiniani.